Noemi Bocchi rompe il silenzio dopo le accuse a marito, l'eloquente reazione della compagna di Francesco Totti. Nei giorni scorsi, Mauro Cucci, ex marito di Noemi Bocchi, aveva rilasciato nel corso di un'intervista settimanale chi alcune dichiarazioni in merito all'attuale compagna di Francesco Totti. L'imprenditore aveva sollevato dei dubbi sulla sincerità della sua ex. Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente che cosa vuole e come arrivare a ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto. Macinando rapporti, sentimenti, famiglie. Qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri scopi. Nessuno si è preso la briga di verificare le informazioni su mia moglie. Siete sicuri che sia laureata? Che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia di una famiglia ricchissima come si è detto? La Bocchi ha scelto di non replicare a mezzo stampa, ma attraverso una storia dal suo profilo Instagram blindatissimo. A un certo punto sul suo profilo, infatti, è comparsa una foto con una dedica di Mario Cucci indirizzata a lei con la scritta Grazie per questi dieci anni unici. Il tutto condito da una musica da circo come colonna sonora e da una serie di emoji con i sorrisi. Un chiaro riferimento al fatto che Cucci non abbia detto tutto sulla loro relazione. Al momento Cucci ha scelto di non replicare. Adonami sua scelto di non Germania. Al momento Cucci facolti opporta per sentire io Tutti ii dei del shop, non ho choro da요. Avunga nu, nu, nu